In questo finale di serie, oggi è l'ultimo episodio di questa serie CTR Stiamo andando in alto, lì su, per prendere l'ultimo pezzo di lana Dietro ci sarà una X, noi dovremo romperla e dietro troveremo, non lo so, un portale Un... non lo so, secondo me è un portale, perché lì non c'è niente secondo me E... e qui niente dai, prima che abbassano quattro stack di terra Vittoria, sì Come sono un po' a farmarla, perché comunque c'è una palla in ferroretta che si è distrutta Ok, ci siamo Allora Dove è la X? Non lo vedo più Eccola qui la X Allora Prendiamo che non è uno scherzo Allora, ecco, ecco Allora, andiamo, 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 andiamo Ultima lana Bedrock, giusto Prendiamo il calcestruzzo Portale, mi sa Andiamo un attimo qua sotto Lava, ovviamente Tutto di bedrock Nel caso sarà difficile, mi sa Mi sa che sarà poco difficile Fai tutto in bedrock Fai una cosa fatta a parte Lana leggendaria Portale, eccolo Meno male Abbiamo blocchi Perché sennò Diamo fatto la strada all'indietro Meno male Erba Ma? Ma? Diamanti Ma che è? Ma tutti minerali, so Perché? Allora, io adesso mi fermerò un po' di terra qua Perché non ho più blocchi Mi faccio una pala in piedra Farmerò comunque qualche stack Allora Ci siamo Ehm Faccio più l'ar Salve Perché è tutto bedrock Qui sotto Non penso che ci sia entrata Quindi si è entrata sopra Male Male Speriamo che non è un dungeon Complicatissimo Perché non abbiamo Chissà Che goggiamento Speriamo che Non ci hanno C'è C'hanno Ma tutti gli sti materiali Oh Ero un sereno Quindi dobbiamo farci Dobbiamo farci l'armatura In diamante Io l'ho inserito in diamante Tutto in diamante Tutto in bedrock Quindi non ti può scappare Vedo un cambio Materiale Hemmestone Occhio Mazza quant'è alta Oh Non finisce più Ok Vedo un Minion Eccola Miniboss Questo rompilo Miniboss Oh 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 Quanto fate male Quanto fate male No 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 Faremo Ho chiuso Qua sopra Perché è pieno Regalo Ho dovuto correre Ed è qualcosa di impressionante C'è dell'acqua C'è la rana Eeeh Proviamo un attimo Poi c'è la che è Un trono C'è solo un problema Allora qua c'è C'è il pallini Che ho droppato Perché ero morto Infatti ne ho presi La metà In pratica Ma c'è parte La rana Là sotto Io Dai 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 Guarda la manone Vabbè Presa 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 Lì c'è Posso tirare l'asporto Vedo un qualcosa di viola Magari Rega Ci porta Direttamente a casa Ma chi c'è sta qua Perché c'era King Kaplan Che mi ha detto Non prende la mia La marrone Che è lui King Kaplan La marrone Presa Sì eccolo Maledetto Botevo pure Diamanti De rubo Anzi Rilascio Ti ucc Così Funziona Ah Perché Perché questa Nella roma Butta Nella roma Ah C'era dei bracchi di diamante C'era Dalla Giusto per concludere La serie Questa Allora Avveliamo il monumento Avveliamo Mettiamo Nella roma Un'errore Anzi Anzi Ho un'idea Un'idea C'era offerto il gioco Tanto simpatico Molto simpatico Quanti stack Concludiamo Concludiamo Con la lana Leggendaria BOOM Congratulations E niente Thank you for Allora Direi di fare Una bella cosa Ci ha dato tutti questi diamanti Concludiamo la serie In bellezza Non abbiamo mai potuto fare In questa serie Alla fine Ci ha dato tutte queste cose Ci facciamo Un'armatura In diamante Completa Non so più che fare Con questi diamanti Ricordo Troppi Uno Due Tre E quattro Ok Ecco ci fa Facciamo full Diamanti E abbiamo tutti Questi stack Di diamanti Mamma mia Vabbè ragazzi Spero che questa serie Vi sia piaciuta Ma quando Inizieremo ovviamente Un'altra serie CTM E niente ragazzi Noi ci vediamo Al prossimo video Bella